Durante il consiglio che si è tenuto ieri, Lucio Tiozzo ha lamentato la mancanza di volontà di dare il via alle commissioni richieste dalla minoranza, trovando però l'apertura da parte del presidente del consiglio, Beniamino Boscolo, che si è preso carico di parlare con gli stessi presidenti delle commissioni. Ma un altro tema, ricordato Lucio Tiozzo, è stata la viabilità sul lungo laguna, da Campotraghetto a San Felice, dove la pavimentazione sconnessa dimostra degrado e incuria, dando inoltre fastidio ai residenti a causa del rumore che le vetture provocano passando sopra i blocchi sconnessi. A rispondere è stato l'assessore Griso, la quale ha ricordato che si sta uscendo da una pandemia, che le materie prime necessarie per i lavori hanno subito aumenti dei costi, conseguente aumento del costo del lavoro finito. Si sta quindi procedendo a un nuovo computometrico, se ne è frattempo studiata anche una nuova soluzione operativa per disturbare il meno possibile i residenti, attuando un cantiere mobile. L'inizio dei lavori è ora fissato per fine estate.